Noi che siamo figli di quel Matteo Ripa che fondò nel 1732 il Collegio dei Cinesi, ancora ora abbiamo un rapporto privilegiato con la Cina e cerchiamo di spiegarlo con gli strumenti più adeguati, che sono soprattutto il sapere e la conoscenza, perché questo travalica anche tutte quelle che sono i pregiudizi e le incomprensioni politiche tra i popoli. Alla base dell'amicizia ci deve essere una comprensione, una conoscenza, speriamo sempre più approfondita, delle identità culturali reciproche. È giunto alla quarta edizione il Festival 1001 Cina, i linguaggi della contemporaneità, organizzato dall'Istituto Confucio dell'Università Orientale di Napoli. Il format prevede una dislocazione in vari luoghi della città ed è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, coinvolgendo anche altre istituzioni come la Soprintendenza, l'Accademia di Belle Arti e il Teatro Stabile Mercadante. Dal 20 al 26 ottobre si rifletterà dunque su cosa rappresenta il sogno in Cina, dal sogno della farfalla del pensatore Zhuangzi al sogno cinese contemporaneo, che il presidente Xi Jinping ha fatto proprio come progetto politico, rievocando il più celebre sogno americano. Il sogno perché è un topos della cultura cinese in generale e perché guarda caso due anni fa salendo al potere Xi Jinping, l'attuale presidente, ha deciso che lo slogan del governo per realizzare tutto quello che non si era ancora realizzato a livello della grande società cinese, della macro società e anche degli individui fosse proprio il sogno cinese. E questo cercheremo di spiegare in questi sette giorni. Grazie all'Università Orientale di Napoli, che è ovviamente uno dei nostri più prestigiosi centri accademici, ma anche uno dei più forti e importanti strumenti attraverso cui si internazionalizza la cultura di Napoli, questa iniziativa davvero dal punto di vista culturale, quest'anno si affronta il tema del sogno anche nella cultura cinese, ci permette di costruire un'occasione dal punto di vista culturale, ma anche della ricerca e anche delle relazioni e anche della riflessione critica che fa davvero di Napoli una capitale culturale del Mediterraneo e dell'Europa. Grazie. 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 Grazie.